San Cataldese è travolta dall'Ercolanese 5 a 2 in trasferta. Un risultato, quello maturato in terra campana, che lascia l'amaro in bocca ai sostenitori Verdi-Amaranto, che al di là della salvezza ottenuta già con due giornate d'anticipo, si aspettavano un finale di stagione diverso. Un punto nelle ultime sei partite hanno fatto scivolare la squadra di Rosario Marcenò nella seconda parte della classifica. Pari del Gela sul difficile campo del Gelbison 1 a 1. Gli altri risultati del penultimo turno di campionato. Acireale Cittanovese 3 a 0, Igea Virtus Ebolitana 1 a 0, Messina Paceco 5 a 0, Roccella Nocerina 1 a 1, Palazzolo Palmese 0 a 3, Troina Portici 3 a 0, Vibonese Isola Caporizzuto 3 a 0. La classifica. Camarat 3 a 1 nei play-out e conquista la salvezza.